Accolta come una star, la maialina Gertrude, a cui Elon Musk ha impiantato un cip nel cranio, mangia senza avere fame, cammina senza saperlo, ed è la dimostrazione che il prossimo ad essere comandato dall'esterno potrà essere l'uomo. È un progresso in medicina, ci dice il neuroscienziato Raphael Giuste, è un pericolo se viene usato per scopi commerciali. Nel mio laboratorio, studiando la corteccia cerebrale dei topi, siamo riusciti a decifrare con un laser quello che stavano guardando, ma anche ad inserire nel loro cervello immagini che non c'erano, si comportavano come se ci fossero. Se questi cip venissero venduti nei negozi come cuffie o caschi, toccherà a noi davanti ad un computer desiderare qualcosa che non vogliamo, pensare di avere emozioni che non proviamo, solo perché queste vengono proiettate nel flusso dei nostri neuroni. Rischiamo masse di persone telecomandate. C'è un progetto di Facebook in cui si vuole eliminare la scrittura in modo che basti solo pensare ad una parola perché appaia. Questo mi preoccupa molto perché quando si sta decifrando la parola si decifra il contenuto della mente. Perciò, insiste Giuste, è urgente che gli stati si occupino subito di leggi che tutelino i neurodiritti. Ci sembrano vietà, invece i nostri pensieri, il libero arbitrio, la nostra identità potrebbero non essere più così scontati. Quando il telefono ce l'avrai nel cervello, non penserai più che le informazioni arrivano dall'esterno. Quello che ti entrerà non sarà più tuo, ma sarai convinto che lo sia.